Abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore, innanzitutto, e San Dostrato. Voi sapete, quest'anno abbiamo avuto una serie di problemi, allora sono stati preoccupati, se si rinvia o si rinvia, stamattina siamo stati baciati, da una bella giornata, una giornata un po' più fresca, e vi ho portato un sott'accordo. Allora, io però ho capito una cosa, fratelli, dove c'è molta luce, le ombre sono più nette. Questo significa che dove c'è più santità, le tenebre, il nemico del piano di sotto, si impegna di più, si impegna di più. E siccome noi abbiamo un grande santo, un grande santo, l'impegno di colui che vuole salvotare un grande santo, e allora non vi lasciate sabotare mai, non vi lasciate sabotare mai vostro e degli altri, perché possiate essere immagine e somiglianza di colui che portiamo. Grazie alle famiglie che hanno concesso il loro supporto per realizzare il nuovo standardo rosso, perché so che il tuo è stato un altro portato, e il tuo è stato un altro portato. Poi piano piano facciamo tante piccole cosine, grazie a tutti voi che avete il suo possibile, ognuno a modo suo, sia la processione che la festa di stasera, le forze dell'ordine che vi assicuro che ci hanno supportato più di quanto immaginate, ve lo dico, c'è un applauso anche alla professione che ci dice, che è su tutti voi e su tutti noi la benedizione è del Signore per la preghiera di Santo Stato. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito. Dio Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre a me. Evviva Santo Stato! Evviva! Grazie! 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 Grazie!